Musica Presentata la nuova stagione del Teatro Niccolini, 10 titoli dal 21 novembre al 12 aprile, un mese di cultura, concerti e spettacoli al Fogliano Book Festival, giunto alla sesta edizione. Rimarrà aperta fino all'8 novembre a Palazzo Bastoggi la mostra di rari francobolli storici dalla collezione privata di Giorgio Cuneo. La nuova stagione del Teatro Niccolini Il Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa ha presentato il cartellone 2024-2025, composto di 10 titoli tra tradizione e contemporaneità, linguaggio classico e sperimentazioni drammaturgiche, frutto della collaborazione tra Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. La nuova stagione del Teatro, riaperto dopo un importante restauro nel 1996, andrà in scena dal 21 novembre 2024 al 12 aprile 2025. Reduce dal successo ottenuto lo scorso anno, in cui è stato raggiunto un record di 190 abbonati su 280 posti disponibili, il Teatro Comunale Niccolini aprirà la stagione con lo spettacolo di Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, secondo lei, che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo continuano a condizionare le scelte principali della vita delle donne e degli uomini in modo invalidante. È una nuova stagione teatrale, bellissima ovviamente, in collaborazione con lo storico legame che noi abbiamo da sempre con il Comune di San Casciano, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, una stagione molto ricca, con 10 titoli, con un'apertura importante, con Caterina Guzzanti, che parla appunto del tema legato a tutta una serie di attività e di rappresentazioni contro la violenza sulla donna e quindi una stagione impegnata, una stagione che vede una versatilità importante di tutta l'offerta e una stagione che come sempre invita tutti a venire a vedere. Una stagione teatrale ricca, non come ogni anno, ma ancora di più. Ogni anno cerchiamo di dare davvero un nuovo corso a questo teatro, dal 1996 rinnovato, una piccola bomboniera di quasi 300 posti, che vede tanti abbonati, ogni anno sempre di più. Siamo arrivati quasi a 200 e quindi, insomma, i posti non sono molti, ma c'è posto per vedere degli spettacoli e un'attività teatrale veramente intensa e di alto livello. Questo è il lavoro che facciamo ogni anno con i vari soggetti teatrali che compongono appunto il nostro palcoscenico e cerchiamo di dare un'offerta varia, un'offerta anche che possa rispondere alle varie esigenze di pubblico per un pubblico non solo del territorio dei Chianti, ma che da tutta la provincia di Firenze viene nel nostro teatro e siamo sempre più attivi e lavoriamo sempre di più per riuscire a soddisfare ogni pubblico, ma soprattutto anche dare sempre la nostra caratteristica di un equilibrio tra gli spettacoli, quelli più classici, e una drammaturgia anche innovativa e nuova che guarda al futuro, ma anche alle nostre radici. Un programma molto, molto importante. Ogni anno cresce, questo dal senso del valore del Teatro Niccolini, ma non per San Casciano Valdipesa, ma non solo, per tutto il territorio. Oggi, permettetemi di ricordare un amico che non c'è più, Massimiliano Pescini, so quanto teneva questa stagione teatrale, so quanto per lui era importante investire in cultura e ogni qualvolta ci sono iniziative di questo genere, che voglio sottolineare, partono anche dalla capacità del territorio di saperle finanziare, ogni volta che c'è questo si costruisce uno spazio di libertà, ed è la cosa più importante. E quindi, alle ragazze e ragazzi più giovani, cercate di partecipare, andate a cogliere la potenza che solo il teatro sa trasmettere, andate a sostenere le tante iniziative che nascono dal territorio. La stagione proseguirà con l'opera buffa di Maria Cassi e Leonardo Brizzi, una sorta di piccolo musical, il quale si scherza attraverso personaggi, gag musicali e tormentoni, con arrangiamenti che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Il mio spettacolo è opera buffa, sono ovviamente con il mio collega, insomma ormai quarantennale praticamente, Leonardo Brizzi, noi si nasce con Maring e Verdurini molti anni fa, nell'86, abbiamo fatto una carriera lunga, bella, interessante, abbiamo girato il mondo con uno spettacolo da Santo Twist. Adesso, diciamo, dopo essersi ricongiunti come compagnia nel 20 durante la pandemia, anche grazie ad Artemisia, proprio è nostra associazione ovviamente importante sul territorio per quanto riguarda la violenza sulle donne, eccetera, eccetera. Ecco, in quel caso io e Leonardo abbiamo ricominciato a lavorare insieme, abbiamo fatto molti progetti che sono andati molto bene, hanno girato, sono state a Milano, al Parenti, in giro anche in Italia, eccetera, eccetera, e poi adesso con quest'opera buffa abbiamo voluto in qualche maniera ricreare, cioè riprendere il nostro lavoro, torno a dire quasi quarantennale, che ci ha portato in giro per il mondo, ricostruirlo in una sorta di spettacolo che ripercorre un pochino la nostra storia artistica, non solo, siamo una compagnia storica comico-musicale, e quindi, niente, riportando un po' questo attraverso un filo conduttore, che è proprio questo, l'amore per la musica, l'amore per i personaggi, l'amore per l'osservazione del mondo, e quindi in una comicità che è sicuramente una comicità forse da altri tempi oramai, non so se può dire questo, eccetera, eccetera, comunque non è una comicità di battuto o di tormentone, è una comicità che riguarda l'umano, che riguarda un pochino l'osservazione del mondo. I titoli contemplano prosa e danza, produzioni toscane, pièce, testi di autori classici rivisitati in chiave contemporanea, opere che scommettono sui linguaggi della sperimentazione, che vedono la partecipazione di nomi di richiamo nel panorama artistico contemporaneo. Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Arturo Cirillo, Giuseppe Cederna, Giulian Anzillotti, Lorenzo Maragoni, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggeri. Significativa la presenza e la collaborazione delle compagnie residenti Arcazzurra Teatro e Teatro Danza Xè. Una stagione, come sempre, cerca di, insieme alla collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, cerca di unire un po' quelle che sono un po' anche le nostre radici da sempre, cioè un misto fra testi nuovi, drammaturgia nuova e classici, meglio se anche talvolta riscritti. In primis, mi soffermo, poi, e soprattutto sul nostro, il nostro è proprio questo qui, perché è la seconda tappa di una trilogia scespiriana. L'anno scorso, nel 2023, l'abbiamo fatto con Alessandro Benvenuti, il Falstaff, che fratto replicheremo proprio a fine novembre alla Pergola. E quest'anno faremo, insieme a Giuseppe Cederna, l'otello. È un otello riscritto, anche in questo caso, da Francesco Niccolini, come nel Falstaff c'era stata la mano di Ugo Chiti, con la regia di Emanuele Gamba. Ci sarà una terza tappa, subito, sempre in un'icona di San Casciano, che partirà da Primavera, che è appunto, come sempre, una banda Sandrelli, con cui noi abbiamo già collaborato, e sarà sulla Bisbetica Domanda, perché è un scespiri scespiri. Per cui, in qualche maniera, per noi, è un po' questo. Il Foiano Book Festival celebra quest'anno la sesta edizione. La rassegna promossa dal Comune di Foiano della Chiana, con la partecipazione della Regione Toscana per favorire l'incontro con autori di livello nazionale, emergenti e indipendenti, propone dal 7 novembre al 5 dicembre presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli, mostre con protagonista principale il libro. Filo conduttore di questa edizione sarà Marco Polo con il suo milione, che il Foiano Book Festival celebra a 700 anni dalla morte per l'impatto duraturo sulla letteratura, la geografia e la cultura mondiale. Iniziamo il 7 novembre e il festival quest'anno durerà per un mese intero, fino al 5 dicembre. La sesta edizione, siamo contenti anche quest'anno per come è stato organizzato, siamo contenti per la qualità degli ospiti. Ormai è un evento che ha superato i confini, sia comunali che provinciali, quindi il festival continua a crescere. Se ha edizioni e l'asticella cerchiamo di metterla sempre più in alto e anche quest'anno credo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Premi Campiello, premi Strega, non solo ovviamente letteratura, ma anche cinema con la presenza di attori, teatro con presenza di importanti anche sceneggiatori o registi, quindi insomma un mese pieno di cultura a Foiano della Chiana. Nell'arco di questo mese di Foiano Book Festival abbiamo sicuramente l'evento di inaugurazione con Don Ciotti giovedì 7 novembre e quello di chiusura con Sergio Camadriere con il concerto nella Chiesa della Collegiata il 5 di dicembre. Poi durante tutto il mese ci saranno ospiti importanti e mi piacerebbe menzionare in particolar modo Giovanni Floris, Valentina Durbano, Stefano Fresi, Lercio e tantissimi altri personaggi di spicco di rilievo per la cultura che hanno anche risonanza poi a livello proprio nazionale. L'apertura del festival avverrà con un evento speciale venerdì 7 novembre alle 18 alla Collegiata dei Santi Martino e Leonardo dove sarà ospite Don Luigi Ciotti che dialogherà con il giornalista Saverio Tommasi sui temi della solidarietà e dell'umanità ferita da guerra e violenza. Il festival offrirà spazio anche a Marco Vichi, Jacopo De Michelis, Beatrice Salvioni, Romana Petri e Valentina Durbano. Tra i nomi più attesi c'è il podcaster Stefano Nazzi vincitore dell'Italian Podcast Awards 2023 nella categoria True Crime e Gabriella Genisi, creatrice del popolare vicequestore Lollita Lobosco. Il Comune di Foiano si mostra molto attivo, molto impegnato e molto vivace sul versante della cultura. Il Book Festival è un altro appuntamento importante che metterà sul palco scrittori, giornalisti, attori di teatro una particolare attenzione anche agli scrittori della terra di Arezzo quindi veramente una grande opportunità che merita anche una grande cornice di pubblico. Ma voglio sottolineare che il Book Festival arriva dopo il premio di giornalismo arriva dopo la mostra sui della Robbia. Il Comune di Foiano nel prossimo anno probabilmente inaugurerà anche grazie al contributo della Regione Toscana il teatro di Foiano che è in fase di restauro e di riqualificazione. Una bellissima occasione per il nostro territorio di ascoltare, di rimparare a leggere perché credo ci sia bisogno anche di questo. Infatti per questo uno degli aspetti, oltre ai grandi artisti già presentati che mi piace del festival, sono coinvolte le scuole, sono coinvolte anche gli scrittori a retini quindi credo che sia a 360 gradi sia un'ottima opportunità. Il Gran Ducato al Regno d'Italia attraverso le emissioni filateliche è visitabile fino all'8 novembre la mostra dal Gran Ducato di Toscana al Regno d'Italia attraverso le emissioni filateliche allestita nello spazio espositivo di Palazzo Bastogi, una delle sedi del Consiglio regionale. Le esposizioni di rari francobolli storici, emissioni filateliche degli antichi stati italiani e del Regno appartenenti alla collezione privata di Giorgio Cuneo, ripercorre le tappe più significative della storia filatelica del Gran Ducato di Toscana fino alla nascita del Regno d'Italia. È stata un'iniziativa molto importante promossa dal Consiglio regionale della Toscana al quale sono molto grato e desidero ringraziare in particolar modo il Presidente Antonio Mazzeo per questa iniziativa culturale che è stata molto apprezzata. L'idea è stata quella di mettere in mostra alcuni dei pezzi più rari del Gran Ducato di Toscana senza però trascurare gli altri antichi stati. Quindi si potranno trovare all'interno della mostra alcune particolarità, ad esempio del Ducato di Parma con dei pezzi rarissimi che sono il sogno di ogni collezionista, alcuni pezzi dedicati al Regno delle Due Sicilie, al Regno di Napoli. Naturalmente tutta la sala principale è dedicata al Gran Ducato con la prima e la seconda emissione, una selezione di lettere molto molto rare. Il ricavato dell'iniziativa di beneficenza collegata alla mostra sarà destinato alla Fondazione Tommasino Bacciotti. È la prima volta che in 24 anni abbiamo un'iniziativa così particolare come quella dei Francobolli. Siamo orgogliosi, siamo felicissimi perché quando ci vengono a cercare e ci offrono la possibilità di dare un aiuto alle nostre attività è una bella cosa. Grazie a Luca, a Giorgio che sono venuti a cercarmi appunto per questa loro iniziativa importantissima dei Francobolli che è un mondo a me sconosciuto ma che ora ho imparato e ho visto quanto è bello e quanto è importante. Hanno deciso di fare questa importante mostra e facendo un'asta con dei Francobolli che hanno messo a disposizione il ricavato andrà alla nostra fondazione per i nostri progetti, per le nostre 26 case che la fondazione porta avanti ormai da 24 anni e questi soldoni che arriveranno saranno per aprire il nuovo appartamento il 17 dicembre, giorno del compleanno di Tommasino che compierebbe 27 anni e apriremo il 27esimo che lo daremo a tutte le famiglie italiane che vengono con il proprio figlio all'ospedale MAI. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti. Tra i Francobolli esposti il numero uno del Regno di Sardegna è il 500 con l'effigie di Vittorio Emanuele del 1851 che può essere considerato il primo francobollo italiano. Dal Ducato di Parma, un bellissimo e rarissimo esemplare, del 1859 un 80 cento arancio del governo provvisorio. Particolare spazio è stato dedicato alle emissioni del Granducato di Toscana tra le quali splendidi francobolli singoli in coppio strisce, una coppia del Nove Crazie annullata 31 dicembre 1859, ultimo giorno d'uso dei valori Granducali e una selezione di lettere molto rare. Ancora la striscia di 5 del 10 cento del governo provvisorio annullata con il mutuo a griglia di Toscanella oggetto di grande valore storico postale, testimone del risorgimento italiano. Il francobollo che per tanti è uno strumento di servizio, di pagamento, di servizi, in realtà è molto di più. Comunica la storia di quel tempo, manda tanti messaggi, a volte messaggi molto positivi. A volte ci si è resi conto anche negativi e quindi alcuni francobolli sono stati ritirati. Entrare in questo salone, il salone delle nostre feste e vedere quanta storia ci sia raccontata attraverso i francobolli è qualcosa di unico e quindi io consiglio alle cittadine e ai cittadini toscani di venire ad assaporare questa mostra. È qualcosa di unico a livello nazionale e internazionale. È un bel regalo che facciamo alle Toscane e ai Toscani. Grazie a tutti.